Peggy 18 Preta il cancello, capitano Buongiorno capitano Buongiorno caporale, come va? Qui bene, fa caldo oggi Giornatina eh Chi è l'ospite? Il giornalista della rivista Ride L'ufficio dovrebbe averti mandato tutti i documenti questa mattina Viene a fare un po' di interviste, vedere un po' come l'addestramento qui al campo Ah perfetto, sì sì, ho tutta la documentazione qua con me Mi servirebbe solo un suo documento Sì, ecco qui, ecco qui Perfetto, grazie Le lascio il pass e deve tenerlo sempre esposto per girare all'interno della base Prego Pondel Chiaramente, grazie Buona giornata Buona giornata 7 8 9 10 11 11 Bene signori, questo è l'SVD Dragunov Arma di precisione dell'Unione Sovietica Spara cartucce 762x54R Ha un caricatore da 10 colpi Gittata utile fino a 1200 metri Fate molta attenzione a non trovarvi davanti alla sua canna quando vi sparano addosso Pericare Bersaglio a metri 400, appena pronto, gruppo di tre colpi, fuoco Perfetto, ottima rosata, ottima respirazione Grazie Toglio a metri 100, appena pronti Traffiche di soppressione, fuoco Perfeu Chuka Forti Perfeu Quattro Grazie a tutti.